Scusa, scusa. Credo che la presenza valga più di mille parole. Non c'è niente da aggiungere, sennò la testimonianza di essere qui insieme alla signora Di Segni, insieme ai miei amici della comunità milanese. E ripeto, essere qua è già di per sé un messaggio. È una scelta? No, non è una scelta perché una scelta vuol dire che ci sono due chance. In questo caso c'era poco da scegliere, c'era da testimoniare e basta. Allora facciamo un brevissimo saluto prima della partenza, ricordando che abbiamo voluto dedicare questa modella del giorno della memoria con una corsa spensierata, allegra, con famiglie, giovani, bambini, personalità, ma soprattutto una cittadinanza nel suo insieme per fare in modo di affermare che gli ebrei è un popolo vivo. Tre, due, uno, via!